Grazie a tutti Prova? 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 Va bene? Ok Visto che vi è stato consegnato un foglio, cantiamo insieme Osanna il figlio di Davi, osanna il Redentore Osanna il figlio di Davi, osanna il Redentore Aprite il mio porte per me, avanzi il re di la gloria Adori cielo e terra, l'eterno suo potere Tutti! Osanna il figlio di Davi, osanna il Redentore Osanna il figlio di Davi, osanna il Redentore Con questa domenica entriamo nella settimana santa In cui il rito liturgico rivivremo il mistero della passione, morte e resurrezione di Gesù Cristo La celebrazione che viviamo oggi ha un doppio valore Come la folla festante accogliamo Gesù nel suo ingresso a Gerusalemme Come i discepoli lo accompagniamo nell'ora della morte Gesù ha svottato se stesso Lo ascolteremo dopo nella prima lettura Non si è tirato indietro di fronte ai fragellatori Non si è sottratto agli insulti e agli sputi Questa sconfitta dal punto di vista umano tuttavia È segno della sua fiducia incondizionata nel disegno di Dio